Il conto alla rovescia sta per terminare e fervono i preparativi per la chiusura dell'aeroporto di Milano-Linate e il trasferimento a Malpensa. Gli ultimi voli che decolleranno dalla pista cittadina saranno verso Cagliari, quello delle 22 e 39, e verso Palermo alle 22 e 35, mentre da Malpensa il primo volo partirà alle 6 e 39 per raggiungere Fiumicino. Già dalla mezzanotte, circa del 26 luglio, lo scalo di Linate sarà vuoto e partiranno i primi mezzi verso Malpensa. Gli autobus che trasportano i passeggeri sulle piste partiranno con un trasporto speciale che percorrerà la tangenziale Est, la A4 e raggiungeranno l'area Cargo City di Malpensa. Il tratto di autostrada non sarà chiuso al traffico. I mezzi trasferiti a Malpensa sono circa 300, tra co-bus e mezzi come carrelli, scalette e generatori, che saranno spostati in due tranche a partire già da questa sera. Per quanto riguarda il personale, sono circa 3.000 le persone tra dipendenti SEA, operativi, personale di negozi e compagnie aeree che riprenderanno a lavorare nell'aeroporto di Varese.